Sì! Allora, siete tutti pronti, ragazzi? Forza, su! Cantiamo una canzone tutti insieme! Karaoke, Guantanamera, o vogliamo di ora? Karaoke, Guantanamera, o vogliamo di ora? Sì! A proposito, non potete nuotare! Che cosa? Non nuotiamo? A dire il vero, io sono pronta! Ho i bracciali, ho un salvagente! Ragazzi, ma avete sentito che cosa ha detto? Ma è impazzita o cosa? Siamo qui in piscina e non possiamo nuotare? A me non importa che dice, io voglio nuotare! Sì, anche io voglio nuotare, quindi lasciaci passare! Beh, siete stati molto cattivi negli ultimi due giorni, quindi se volete nuotare, ascoltate bene! Tutto dipende dal vostro comportamento! Oh, che pesantezza! E va bene, ragazzi, sentiamo che cosa vuole da noi, così poi possiamo nuotare! Secondo me sta mentendo, non ci farà nuotare comunque! Beh, prima di tutto, ragazzi, mi sembra che avete messo su un po' di chili! Se volete essere belle come me, dovete dimagrire un po'! Senti, nonna, chi lo dice che vogliamo avere un corpo come il tuo? A noi piace il nostro così com'è! Esatto, abbiamo un po' di curve almeno! Sì, e io in realtà ho una delle più belle forme del mondo Barbie! E io sono un super Ken! Volete andarmi contro, ragazzi? Ben soltanto i Ken e le Barbie più belli potranno nuotare! Avete capito? Beh, ragazzi, tra di noi nessuno è perfetto! Nessuno! Questo significa che nessuno di noi può nuotare! Nessuno! Sì! Va bene, allora faremo un riscaldamento tutti insieme! Seguite quello che faccio io! Capito? Avete sentito, ragazze? Faremo un riscaldamento con nonna Barbie! E va bene, su, facci vedere, veloce! Perfetto, iniziamo! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Oh mio mio! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Bene, ora facciamo jogging sul posto! Forza, portate le ginocchia al mento! Ma è impossibile! Non credo in tenda letteralmente! Sì, ma andate piano! Correte troppo veloce! Basta, fermi! Oh, molto bene, il riscaldamento è finito! Ora vediamo come ve la siete cavata, ragazzi! Non mi è piaciuto il tuo riscaldamento e nemmeno il tuo! Però il tuo è stato molto bello! Mi è piaciuto! Cosa? Non ti è piaciuto? Abbiamo fatto del nostro meglio! Lasciaci entrare in piscina adesso, dai! Le è piaciuto il mio di riscaldamento! Vado a nuotare! No, 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 no! Sto parlando della bambina! Si è fatto buco di nuotare, almeno tu! Ragazze, allora io vi aspetto a nuotare in piscina! Senti, nonna, non capisco! Ho fatto tutti gli esercizi corretti! Ben sì, le hai fatti tutti, ma non molto bene! Però va bene, ti lascio andare a nuotare, vai pure! L'avete sentita? Sono un bel Ken! Ma cosa? Ehi, aspetta, Dima, cosa fai? Non andare senza di noi! Oh, dai! Stavo dimenticando il materasso! Ehi, Dima Ken! Quello è il mio di materasso! Sei un traditore! Non tornare più da noi! Ma guarda un po' che razza di amico che sei! Voi ragazze invece togliete l'erbaccia dal giardino! Vi controllo, quindi fatelo bene! Che cosa? Dobbiamo strappare l'erbaccia con questo caldo! È incredibile! Questo è troppo! Io non ce la faccio più! E anche Dima Ken ci ha tradite! Dobbiamo trovare una soluzione per riuscire ad entrare in piscina! Infatti! Esatto! Che cosa possiamo fare? Vi ho detto cosa fare! L'erbaccia non se ne va da sola! Ragazze, avete qualche altra idea? Chiamiamola Fatamadrina! Sì, così può trasformare la piscina in ghiaccio e nessuno la userà più! Va bene ragazze, venite qui! Uno, due, tre! Ti prego Fatamadrina, vieni da me! Uno, due, tre! Fatamadri... Guardate ragazze! È là! Ah, ma che giornata meravigliosa! Quanto è bello avere un giorno libero! Che cosa? Avete sentito? Ma che ci fa lì la Fatamadrina? Sembra proprio che la nonna stia riposando adesso! Forza, raggiungiamola! Andiamo! Evviva, dorme! Andiamo, veloci! Fatamadrina, devi darci una spiegazione! Ma cosa c'è che non va in te? Ti abbiamo chiamata mille volte e tu sei qui in piscina a rilassarti! Ragazze, oggi non ci sono per nessuno, è il mio giorno libero! Ah, davvero! Proprio oggi che abbiamo un sacco di problemi e anche tu ci volti le spalle! Ragazze, che cosa avete in mente di fare? Non fatemi arrabbiare, eh! Andatevene via! Ragazze, io vi avvertite! Ah! E mi fa così fare! A presto, a presto, a presto! Ascoltoci! Ciao, ciao! Aspettate che io esca da qui, mi asciughi le ali, trovi la mia bacchetta e vi trasformerò tutte quante in rane! Oh, finalmente vado a nuotare! Tolgo questi vestiti e sono pronto! Ci sono radicate! Ragazze, ragazze, ho un'idea! Prendiamo i vestiti di Dima Ken, così non potrò uscire! Oh, sì! Sì! E non potrò nuotare anche lui! Va bene, facciamolo! Sì, ragazze, ragazze! Andiamo! Andiamo! Ho bisogno di autoconvinzione! Dividerò le onde con le mie mani, come un super Ken! La paga, andrà bene! Lo vedremo come farà il bagno adesso! Ehi! Dima Ken, vuoi ancora fare il bagno? Certo che nuoterò! Innanzitutto mi cambio i vestiti! Certo, tranquillo! Oh, e Dima, ma di chi è questo costume? Non lo so, ma sta volando in piscina! E questa maglietta è invece di chi sarà? Ole! Perché mi hai buttato i vestiti? Ora come faccio a uscire? Come nuoto? Pronte? Uno, due, tre! Arrivo anche io! Forza, vieni! Giorgia! Ragazze, che avete fatto? E ora che faccio? Dima, ti sta bene! Questo è quello che si merita a un traditore come te! Andiamo! Che sta succedendo? Che succede? Che è tutto questo rumore? Ragazze, ferme! Fermi un attimo! Oh no! Non andassi svegliamo nei guai! Mi sa proprio che qualcuno sarà punito! Nonna Barbie, mi hanno gettato i vestiti in piscina! E ora che faccio? Non ti preoccupare, mi occupo io di queste piccole delinquenti! Cosa hai detto? Ve ne pentirete di quello che state facendo! Che fate? Basta ragazze, smettetela! Forza! Ti spizio tutta! Giorgia, beccati questo! Dana, smettila! Lasciami in pace! Dai, Giorgia, forza, altre! Uno, due! Giorgia, allora, insomma, vuoi nuotare o no? Sì, che bello, andiamo a nuotare! Giorgia, però, aspetta! Non possiamo nuotare subito! Prima dobbiamo pulire la piscina, te lo sei dimenticato? Diana, ma perché dovremmo farlo? Non vedi com'è pulita? In più l'acqua è già calda! Beh, io lì dentro non ci entro finché non l'abbiamo pulita! È pieno di zanzare e altri insetti strani che sono caduti nell'acqua durante la notte! Io non nuoterò con loro! Diana, come sei difficile! Va bene, puliamo questa piscina in fretta che voglio nuotare! Dai! Va bene, vado a prendere quello che serve! Che se la pulisca da sola la piscina? Io voglio prendere il sole! Bene, adesso togliamo tutti gli insetti dall'acqua! Così potrò entrare anch'io! Ehi, Giorgia, ma che fai lì? Beh, Diana, ti sto aiutando! Guarda, ti dico dove sono gli insetti! Ce n'è uno lì, per esempio! E anche uno là! E anche lì! Prendili, su, toglili! Giorgia, sei incredibile! Se la pulisco da sola ci nuoto da sola qui dentro! Ok? Dai, su, vieni ad aiutarmi! Senti, Diana, un'idea! Perché non chiamiamo i tuoi amici e chiediamo a loro di pulire la piscina, eh? Giorgia, sei così pigra! Se non vuoi pulire non ce n'è bisogno e la pulirò da sola, però poi ci nuoterò solo io qui dentro! Ragazzi, è per me questo? Ciao, Diana! Hai bisogno di una mano per la piscina? Ciao ragazzi! Ma che bello questo castello che avete portato! Ci saliremo a turno, solo Giorgia non lo userà! In che senso? Cosa sto cercando di dire? Io lo userò e sarò la prima ad usarlo! Vedrai! Allora, vuoi una mano per la piscina? Dima che domanda è! Certo che la vuole! Prima la puliamo, prima nuoteremo! Sì ragazzi, dai, venite ad aiutarmi! Questo calore è insopportabile, non ce la posso fare da sola! Ecco, continua tu! Accendo l'aspirapolvere! Certo, assolutamente! Accendilo subito! Beh, Giorgia nuoterà eccome! Dima, vai, accendi! Art, l'ho acceso! Art, nuoteremo tutti insieme, vero? Tu sei mio amico, sei dalla mia parte! Giorgia, lasciami stare, non siamo amici! Ragazzi, ho portato il telo per il prato! Perfetto, abbiamo quasi finito! Oh, che bello! Posso prendere un po' di sole adesso? Giorgia, ma cosa stai facendo? Pensi davvero che abbia messo il telo per te? Tu non stai facendo nulla per aiutarci! Buttiamola in piscina e facciamole prendere il sole direttamente da lì! Sì, andiamo a prenderla! Ma che bello questo sole! Com'è rilassante stare qui al sole! Così caldo, è bellissimo! Fatto, ho finito! Quanto mi piace questo sole! Ora non canterai più, ti buttiamo in piscina! Che cosa? Posso farlo anche da sola! Non ti preoccupare, ti buttiamo noi! Ben fatto ragazzi, date una lezione a questa lazzarona, non fa altro che dormire e mangiare! Ragazzi, lasciatemi! Mettetemi giù! Non fatemi arrabbiare, se no vi uccido, sapete che posso farlo! Lasciatemi giù! Dai Giorgia, forza, altre! Uno, due, tre! Che c'è Giorgia? Ora non ti va più di nuotare? Ragazzi, lasciatemi giù, non sto scherzando! Molto bene Giorgia, allora puoi entrare in casa e smetterla di disturbarci ora! Sapete una cosa? Se non nuoterò io non nuoterà nessuno! Ben fatto ragazzi, datemi il cinque! Ora possiamo riposarci! Kev, hai pulito la piscina? Già da un sacco! Dai, allora mettiamo il castello in acqua! Sì, facciamolo! Forza Giorgia, pensa! Bisogna trovare una soluzione! Gli amici di Diana non vogliono farmi nuotare! Butterà qualcosa in piscina, così gli passerà la voglia di nuotare! E come se gli passerà? Troverà sicuramente qualcosa di adatto nel prato! Mmm, qui non c'è nulla! Nemmeno qui! Possibile che Diana abbia pulito anche il prato! Va bene ragazzi, vado prima io, ma state attenti! Viana spostati, ci tufferemo ora! Aspetta Dima, volevo far fare un giro anche a Teddy! Certo che i cani non hanno mangiato proprio niente e non hanno fatto i loro bisogni da nessuna parte! Ahà, guarda come si divertono mentre hanno detto a me di stare chiusi in casa e non disturbarli! Beh, divertitevi finché potete! Dai, forza ragazzi, prendiamolo! Dai che ci entro! Dai, forza! Com'è il tuo castello, principessa? Fai attenzione a non cadere! Piano, piano, piano! Guarda come gira! Bonnie, Daddy, siete proprio dei traditori! Non avete lasciato neanche un bisognino in giro! Wow, attento! Fai attenzione! Che fai? E va bene, va bene, non importa! Troverò un altro modo per vendicarmi di Diana e dei suoi amici! Non ci posso credere, c'è Kev sul mio castello! Quello è il mio castello, sono io la principessa, non tu! Sei troppo grosso, lo farei affondare! Va bene ragazzi, aspettiamo ancora più o meno un quarto d'ora e poi ci tuffiamo in piscina, va bene? Sì, prenderemo il sole per 15 minuti e poi ci tufferemo! I Ray-Ban, la vodka, l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere? Dima, smettila di cantare, Giorgia ti ha infettato? Art, buttagli dell'acqua fresca addosso, secondo me si è un po' troppo riscaldato! Sì, hai ragione! Diana, mi dai la tazza? E a che ti serve? Dai, mi serve! E va bene, tieni! Grazie! Art, che fai? Ora prendo il secchio! No, lo prenderò io! Forza, Giorgia! Pensa, ti serve un nuovo piano! Puoi sicuramente trovare una soluzione, ce la fai sempre! Pensa! Ci sono! Ho un'idea! Butterò il telefono di Diana in piscina, vedrai come finisce in fretta la festa dopo! Non mi prenderai mai! Dai, prendimi! Bloccatelo! Non ce la fai! Palla! Presa! Dai, prendi la forza! Guardali lì come si divertono! No, non posso buttare il telefono in piscina, questo non me lo perdonerebbe mai! Sarebbe troppo grave! Però potrei buttare tutti i suoi vestiti in piscina! Adesso sì che ci si diverte! Meglio passare dall'altro lato! Dai che ce la fai! Ti ho preso! Lasciami! Fermati! Non mi farò prendere! E dai! Adesso li sistemo io! Diana! Conterò fino a tre! Cosa? Ragazzi, guardate! Giorgia, cosa stai facendo? Metti subito via i miei vestiti! Non farmi arrabbiare! Quelli li devo mettere oggi per andare in centro! E via uno... Due... Due... E l'ultimo... Tre! Giorgia, non avresti dovuto farlo! Adesso te la vedi con me! Sì, te la faremo vedere noi! Se riesci a prendermi! Prendiamola! Giorgia, fermati! Giorgia, fermati! Non chiudere! Giorgia, apri! E non è finita qui! Beh, ragazzi, è ora di rinfrescarsi un pochino! Ecco qui il ghiaccio, ne ho tantissimo! Giorgia, apri! Diana, non parlarci più! Andiamoci a prendere i vestiti e ci passeremo qui l'interno! Sì, è vero, hai ragione! Va bene, va bene, andiamo! Dai, andiamo! Recuperiamo i vestiti e poi facciamoci una bella nuotata! Ciao, Teddy! Giorgia! Ciao, ragazzi, ho deciso di rinfrescarvi un po' la piscina, siete contenti? Giorgia, non provarci nemmeno! Vuoi veramente che non nuotiamo? Bene, questo è abbastanza, adesso ti sistemo io! Andiamo! Giorgia, ti conviene fermarti! Dai, Giorgia! Giorgia, fermati! Ormai ti conviene fermarti! Bene, Giorgia, credo che ora ti serva una bella rinfrescata! Dai, Giorgia, rinfrescati! Sì, Giorgia, vai così! Bene, questo è tutto per oggi, ragazzi! Mettete mi piace e iscrivetevi al canale! Diana, Kev, Dima, Art e Giorgia vi aspettano nel prossimo episodio! Ciao! Ciao! Ciao!